Salve, salve a tutti cari amici e non, e benvenuti o benvenuti qui sul mio canale Faber91. Oggi sono qui ragazzi per parlarvi di un fumetto che ci ha portato, una ristampa che ci ha portato l'editoriale Cosmo, grandissima casa editrice che ci porta veramente fumetti importantissimi per quanto riguarda storie anche franco-belga, del fumetto francese, quindi insomma una casa editrice che se ne parlerete ma non tantissimo, non quanto meriterebbe, secondo me perché veramente ci porta delle storie e degli artisti, degli autori, delle saghe veramente importanti e che anch'io, mia colpa, ne parlo poco ma le cose le acquisto. Però oggi volevo fare proprio un video perché mi ha portato questa storia che a me piace moltissimo, con protagonista, una ragazza, quindi quando ci sono come protagonista le donne, io godo perché a me piace vedere protagonista le ragazze, soprattutto quando sono così piacenti ma anche di carattere, come ci viene presentata questa pilota appunto di questo fumetto ambientato durante il secondo conflitto mondiale, quindi anche a me piacciono le storie ambientali durante il secondo conflitto mondiale e quindi sto parlando di Angel Wins, di Ugold, non so ragazzi come si pronunciano questi nomi, chiedo scusa Ugold e Jan, Jan è sceneggiatore e Ugold, Ugold insomma disegnatore ragazzi questa storia che viene ristampata con questa carta molle, come il famoso film, mi sembra Aldo, Gian e Giacomo guarda Giacomo, il cucchiaino sembra molle, ecco qua scena lì, ragazzi, però questa è carta riciclata ragazzi però 6,90, 100 pagine che in formato grande, sì, prenderebbero molto di più anche se qua vi mostrerò, non è proprio così male alla fine però invece le pagate 18, 19, le paghi 7 sì, rimpicciolisce un po' le tavole, oddio, non è quel rimpicciolimento terrificante perché comunque adesso ve lo mostrerò però, anche perché non so se effettivamente i cartoni esistono di questa qua o se li faranno però, nonostante tutto, in questo caso è accettabile allora ragazzi, queste storie che praticamente hanno come protagonista la nostra Angela questa bellissima, bellissima protagonista che appunto fa parte delle WASP che sono questi reggimenti, queste compagnie aeree che avevano come personale appunto le donne durante il secondo conflitto mondiale questa storia che è ambientata per la prima parte e mezzo sul fronte cinese, birmano insomma, sul fronte dove i giapponesi, in Cina praticamente, si combatte più o meno da quelle parti là e la nostra protagonista, insomma, che guida gli aerei avrà a che fare con delle avventure mozzafiato allora ragazzi, per chi ama il genere, seconda guerra mondiale seconda guerra mondiale, aerei, combattimenti è sicuramente un genere imperdibile poi, dobbiamo subito fare il plauso, come già ho fatto all'inizio a questi spettacolari disegni perché ragazzi, guardate che spettacolo ragazzi cioè, sono tutte le tavole, sono queste guardate gli inseguimenti aerei cioè, ma di cosa parliamo? soltanto per il compartimento grafico questo Yucore è un fenomeno ragazzi tra l'altro, entrambi i disegnatori e sceneggitori sono esperti in questo campo ragazzi e si vede quindi, come ci vi ho detto all'inizio, dovrebbero essere quattro albi che usciranno una volta a mese a prezzo di 690 convenientissimo questa storia, appunto che ci dice, sarà ambientato tra Birmania, India, come dicevo all'inizio insomma, è alla fine poi il dittico ambientato durante la guerra di Corea quindi poi nel finale ci sarà un dittico in cui lei dovrà combattere sul fronte coreano ragazzi, io veramente l'ho letto mi sono appassionato molto alla storia perché comunque, oltre che ci viene raccontato le sue avventure è anche bello il rapporto dei soldati quello che si dicono come vengono caratterizzati i personaggi i combattimenti come anche venivano viste le donne dagli stessi soldati ufficiali in questa scena quando lei arriva lui dice, sbrigate andatene perché non voglio avere donne in mezzo che distraggono gli uomini e lei dice guarda che io sono molto più abili di tanti uomini che tu hai perché c'era questa cosa delle donne quando invece lei poi in molti occasioni anzi, subito all'inizio quando parte la storia inizia con lei che deve portare questo guida questo aereo da trasporto non da battaglia questi quei grandi dove insomma deve portare dei rifornimenti in una zona in una zona molto difficile dove molti aerei erano crollati invece lei ci riesce comunque a guidarli in compagnia di anche altri ragazzi viene poi attaccata dai caccia giapponesi ma lei riesce nonostante prenda fuoco la parte sinistra dell'elica riesce comunque poi ad aggirarli e poi ovviamente arriveranno i P40 i famosi angeli protettori e buttaranno giù gli aerei questo ovviamente è la prima parte poi non ve racconto niente perché ve la dovete godere poi insomma appunto una volta che lei è stata atterrata guardate qua ragazzi quanto ragazzi le scene di battaglia in volo sono qualcosa di meraviglioso meraviglioso sì incartonato renderebbero di più è ovvio però ragazzi al momento non so mi pare che l'abbiano già stampate sull'istorica quindi magari alcuni ce l'hanno io non li avevo e me lo sottotone dico l'ho avuto provare ragazzi sono rimasto folgorato da questa lettura perché ragazzi i migliori 6,90 spesi bella anche questa scena quando c'è il Don Giovanni di turno che pensa che insomma che grazie a lei grazie a un suo suggerimento riesce a non schiantarsi poi dopo lui scende tacche la prende gli dà un bacio lei rosica e lo mette praticamente a terra gli dice adesso vediamo se sta tanto bravo cosa riesce a fare mentre gli mette dietro in faccia e lui rimane così perché non si aspettava una reazione digene quindi insomma vediamo già la caratterizzazione di questa Angela che non è la classica cioè è una donna che sa il fatto suo e che dimostra di avere un temperamento e di essere anche brava perché lei insomma poi scopriremo alcune cose della sua vita scopriremo insomma che poi ci racconto il suo addestramento eh ragazzi guardate qua che bellezza cioè queste tavole sono qualcosa di meraviglioso questi sono veramente fumetti insomma il fumetto franco belga è uno dei fumetti più belli al mondo per quanto riguarda i disegni penso dopo quello americano sia quello che più mi soddisfa cioè ragazzi guardate di che stiamo parlando cioè veramente poi quando si parla vi vedo di seconda guerra mondiale di protagoniste femminili cioè una donna black widow che è protagonista di questa serie insomma che dimostra di essere brava poi è molto vedere quanto cioè è bella è bella è disegnata veramente bene guardate qua ragazzi questa è la scena del ponte guardate qua ragazzi è una contraerea cioè ma di cosa parliamo cioè veramente guardate qua questa scena di bombardamento veramente ragazzi questo è un fumetto per me imperdibile cioè imperdibile artisticamente non è saputo di niente lei come come protagonista funziona benissimo contando che qua abbiamo le prime due storie che però poi devono continuare a vedere qua poi ci sono dei riferimenti al passato gli aerei insomma veramente c'è ovviamente dei piacere del genere che è il genere di guerra ci sono questi famosi dialoghi tra soldati c'è quella caratterizzazione alla fine di guerra che però insomma poi ovviamente ci sono anche che ne so qualche critica ai comandi a come certe cose venivano gestite ripeto anche ai singoli personaggi che hanno dei comportamenti a volte discutibili cioè quindi insomma è veramente una serie coinvolgente coinvolgente disegnata veramente magistralmente con un grandissimo personaggio bellissimo in tutti i sensi buona perché è veramente un pezzo di donna bellissima cioè guardate qua nonostante sia ovviamente abiti anni 40 però è una strabona guardate qua quando c'ha gli occhiali insomma veramente una serie che io consiglio non possono poi essendo poi di pochi numeri insomma una volta al mese guardate qua nonostante lo scuro perché molte volte questa carta nello scuro rende un po' non rende bene vabbè ci sono poche parti nell'oscurità però vedere non è quel quello scuro brutto come avevo visto ad esempio negli integrali da varme questo è un po' è meglio forse perché l'artista ha una tecnica un po' più un po' più realistica guardate cioè ragazzi ma come si fa come si fa a non apprezzare e non dire che questi disegni sono capolavori non si può non dire che sono belli no si dire che sono capolavori disegnare un aereo in questo modo con questa dinamicità è una tecnica da capolavoro non si può di bella no buona no ottima no capolavoro il capolavoro si deve usare per questa per questa tipologia di disegni se no non so veramente per cosa usarli poi c'è ecco il discorso che lei fa questa scena mi è piaciuta tantissimo guardate un po' qua tantissimo questa scena mi è piaciuta veramente tanto non vedo perché vedo già la storia poi c'è anche lei che si vede nuda in un momento quindi anche lì per questo motivo vale l'acquisto e poi ragazzi vi mostro l'ultima l'ultima scena di battaglia che poi continuerà ovviamente nel secondo numero che io ovviamente non mi perderò per nulla al mondo ragazzi non mi perderò per nulla al mondo prossimo numero infatti sarà ridicolo tra un mese 18 avrile eccolo qua con il titolo è obiettivo Broadway eccolo qua quindi insomma Eidrone Cosmo ci porta questa bellissima bellissima storia con questo protagonista femmile magnetico scritto veramente bene con due tette allucinanti bellissime guardate qua quanto è bella in costume però ragazzi ripeto è bella proprio come è caratterizzato poi ripeto se vi piace il genere io lo straconsiglio a 7 euro ragazzi non si può ecco qua se vedete qua c'è questa scena in cui lei è nuda questa parte qua guardate qua ragazzi mi deve stare a parlare quindi ragazzi io lo straconsiglio se non avete maletto potete provare con questo numero anche per vedere il genere tante volte non avete mai provato Angel Wings lo trovate in edicola io me lo sono già divorato e aspetto con trepitazione il prossimo numero insomma era un po' che non parlavo di fumetti franco belga e mi sembrava giusto farlo con questo mezzo capolavoro scritto veramente bene e disegnato altrettanto perché ragazzi i disegni sono capolavori cioè questi sono disegni veramente spettacolari in tutto e per tutto quindi ragazzi fatemi sapere voi nei commenti spero che il video vi sia interessato mettere like al video se vi è piaciuto commentate condividete qualsiasi cosa iscrivetevi al canale se siete interessati ai miei video come dico sempre come faccio sempre e come dico sempre ci vediamo al mio prossimo video ciao 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 ciao